C'erano anche i componenti del comitato spontaneo Gelensis Populus ieri all'Assemblea regionale siciliana. Si è parlato di liberi consorsi dei comuni, l'iter per il passaggio del comune di Gela nell'ambito dell'area metropolitana di Catania appare ancora a lungo e complicato. Ieri è stata una giornata molto intensa, è partita con un nostro sit-in dinanzi a Palazzo d'Orlean, cioè la sede della Presidenza della Regione. Dopodiché al momento dell'inizio dei lavori d'aula ci siamo spostati a Sala d'Ercole per seguire i lavori d'aula. Ieri al primo punto dell'ordine del giorno c'era la votazione in ordine al DDL 1070, eravamo gli unici presenti in aula e il dibattito è stato serrato. Alla fine si è deciso per proporre degli emendamenti relativamente alla riscrittura della legge entro la serata di oggi. Alleggiava un'area favorevole a questo trasferimento o no? Che area tira la Regione? Vari deputati, erano tutti assolutamente concordi nel fatto che la volontà popolare delle comunità che avevano scelto il passaggio ad un altro libero consorzio o nel nostro specifico caso all'area metropolitana di Catania doveva andare assolutamente rispettato. Il governo regionale era rappresentato da due assessori, dall'assessore Lantieri e dall'assessore Baccei. Chiaramente erano molto preoccupati della situazione e anche loro si auspicavano che l'approvazione avvenisse quanto più in fretta possibile. Però certamente alle parole e alla preoccupazione non stanno seguendo i fatti. Perché ricordiamo che il passaggio effettivo di Gela, Niscemi, Piazza Armerina e Licodio Ubea si concretizzerà solo allorquando arriverà in aula il DDL di Giunta, non il DDL della Commissione Affari Istituzionali, ma il DDL di Giunta, presieduta dall'Onorevole Crocetta, che è quello che chiuderà e sancirà l'effettivo passaggio ridisegnando i confini territoriali.